Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi passiamo dall'ora legale all'ora solare. E nella gioia, nella felicità di tornare verso bioritmi naturali, questa mattina ho pubblicato un post chiedendomi proprio di dire la vostra su questo argomento, su come vivete questo nuovo adattamento all'orario. E allora partiamo proprio dai commenti, apriamo un social a caso, aprirò Instagram e vediamo un pochino cosa mi avete detto. Non temi il tempo che sto aprendo Instagram, ecco qui la pagina Dottor De Mari, ecco il post, oggi lancetta indietro di un'ora. Allora, mi rattrista molto, male, preferirei l'ora legale. Io stamattina appena sveglia ho messo l'orologio un'ora avanti, benissimo. Da morire mi chiudo, mi adatto a fatica, stavo meglio prima, giornate lunghe e solari, ora la sera è buio, presto, paura. Male, non accetto proprio né l'autunno né l'inverno, la poca luce mi rattrista. Male, confesso che amo l'estate, mi dona carica, forza, la mancanza di luce mi rattrista. Ora in letargo, faccio un po' di fatica ad adattare il cambio di orario, i primi giorni mi sento un po' stanca, diciamo che vado in letargo. Male, la vivo con serenità e tranquillità perché amo l'autunno e l'inverno. Come potete vedere siamo tutti diversi e allora c'è a chi piace il periodo autunno-inverno e a chi invece rattrista. Ma l'idea è proprio quella di cercare di vivere al meglio un cambiamento e quindi la parola magica è dare al nostro organismo la possibilità di adattarsi. Perché l'autunno e l'inverno è collegato alla tristezza e alla malinconia? Ve lo siete chiesti? Beh, in realtà effettivamente si riducono le ore di luce e quelle ore di luce, quindi quando il sole arriva sulla terra in questa stagione, almeno qui nella nostra zona del globo, quindi in Italia, effettivamente il sole è come se è un po' più distante, quindi un po' più freddo, ma in realtà è un'angolazione differente con la quale il sole colpisce. Fateci caso, la lunghezza della vostra ombra. Anche a mezzogiorno, pian piano, l'ombra sarà sempre lunga. Questo cosa significa? Significa che il nostro organismo non avrà più la possibilità, anche, e ammesso che ci mettiamo nudi, esposti al sole, non avrà più la possibilità di sintetizzare l'adeguato rapporto di vitamina D. Un po' per l'inclinazione del sole, quindi entriamo sempre meno in contatto con i raggi UVB che a noi interessano, che troviamo quando l'ombra è più corta, poi c'è l'ola che conta. E allora andiamo in carenza di vitamina D, ma la vitamina D regola una serie di funzioni. Regola, ad esempio, la funzione della nostra tiroide. E allora, quando andiamo verso una carenza di luce, si è visto che anche il metabolismo tende a rallentarsi, motivo per il quale verso l'autunno e l'inverno tendiamo, chi più chi meno, ad aumentare un pochino di peso, in maniera fisiologica, un paio di chili in più. Ma questo succede anche per mantenerci più forti, per supportare il nostro inverno. Un inverno fatto in passato da carenze alimentari, cosa che oggi, per fortuna, non viviamo più, ma viviamo l'esatto opposto, gli eccessi alimentari. Ma questo è un altro capitolo. Altro aspetto importante è la ghiandola pineale. La ghiandola pineale è una struttura messa all'interno del nostro cervello che ci collega effettivamente con gli astri. Quindi, in funzione della luce e del buio, come orari, verrà prodotta melatonina e verrà rilasciata melatonina, che ci aiuterà a dormire. E allora, in questo momento, iniziamo a sentirci un po' più letargici, un po' più stanchi, per un aspetto biochimico di regolazioni tra ore di luce reali, ore di buio, rapporto con ghiandola pineale e melatonina. Ora, come possiamo adattarci al meglio delle nostre possibilità? Beh, se dovessi immaginare in natura la sostanza che si adatta di più a qualsiasi clima, a qualsiasi sbalzo di temperatura e sbalzo di pressione atmosferica, è proprio l'acqua. L'acqua ha la caratteristica, quando fa troppo caldo, di diventare vapore. Quando è un po' più freddo e cambia la pressione, andando in alto, ritorna a essere in forma liquida, quindi sotto forma di acqua, così come la stiamo immaginando in questo momento. E poi, se è troppo freddo, ghiaccia. E comunque l'acqua ha la possibilità di adattarsi al contenitore. Quindi se io utilizzo un bicchiere, diciamo, dritto, conico, o utilizzo un bicchiere, un'ampolla, l'acqua si adatta perfettamente. Non gli interessa in quale spazio stare. E pensa un po', noi siamo fatti per una buona percentuale, un 75-80% proprio di acqua. E allora cosa vi sto dicendo? Se il nostro corpo è ben idratato, quindi le nostre cellule sono ricche di acqua, così come deve essere, e non sono sporche nel terreno. Quindi non ho accumulato tossine, non ho accumulato implicazioni, quindi lo zucchero che si è andato all'ineccesso, che abbiamo mangiato, che si è andato a legare alle proteine delle membrane, non ho accumulato tossine che vanno a ridurre questi equilibri di elasticità e plasticità all'interno del nostro organismo, noi ci adattiamo meglio. Questo è il motivo per il quale da piccoli riusciamo ad adattarci molto bene, perché in teoria siamo puliti, man mano che diventiamo più grandi ci sporchiamo tra stress emotivo, alimentazione sbagliata, utilizzo di farmaci, alcolici, stupefacenti, eccetera, eccetera, tutto questo tende a sporcare la nostra acqua, a creare una disidratazione cellulare che si manifesta alla fine con un minore velocità di adattamento a questi cambi di stagione. Per mantenerci in salute su questo, dobbiamo semplicemente favorire di frutta e verdura stagionali, seguendo le nostre stagioni. C'è l'integrale in chicchi, vanno bene le uova, va bene il pesce, vanno benissimo i legumi e facciamo attenzione ad allontanare quanto più possibile alimenti industriali e troppo raffinati. Che dirti ancora? Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao ciao!